Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un video emergency, un video di urgenza perché i mercati hanno iniziato, i mercati delle cripto, a dare segnali di cedimento. Tant'è vero che sia il Total Market Cap della DeFi, sia Bitcoin ed Ethereum ovviamente, hanno invertito il trend in breve periodo proprio nelle scorse giornate. Riprendiamo quindi quella che è la nostra consueta analisi del lunedì, andiamo a vedere un po' tutti quelli che sono le novità, analisi tecniche, analisi cicli, che cosa sta succedendo. Vi dico già da subito che la settimana scorsa quasi tutte le operazioni, quelle di posizione, hanno indicato segnale di short ovviamente. Ovviamente ragazzi ero a Miami quindi non riuscivo a darvi gli aggiornamenti in tempo reale ma in Academy ho già pubblicato tutto, insomma avvisato tutti quanti di questa idea. È un po' una situazione non di gravità, ve lo dico già da subito, però da attenzionare molto 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 perché alcune cose non rientrano nei classici conteggi che facciamo ogni lunedì, quindi nei classici canoni. E tante configurazioni anche nell'analisi tecnica sono estremamente pericolose tra le quali insomma quella del Total Market Cap della DeFi. Allora un po' tutte le crypto in generale stanno soffrendo, seguono quello che è la questione del Nasdaq. Se vi ricordate qualcuno di voi dal video di lunedì scorso ne avevamo parlato quando vi dicevo che Nasdaq poteva disegnare quella che era magari una settimana rossa proprio perché veniva da insomma un po' di settimane verdi. E in effetti così poi ha fatto proprio la scorsa settimana questa sembra stia continuando diciamo una fase ribassista e poi è appena iniziata comunque e quindi bisognerà vedere. È molto molto importante che regga questo minimo anche di Nasdaq ma lo vediamo tra un po'. Bene allora ragazzi Miami ne parleremo a vista perché ora sono ancora in viaggio quindi non ho la possibilità di farvi vedere il face on. Ne parleremo a vista comunque la Bitcoin Conference di Miami è stata sicuramente una super conferma di tantissime questioni legate soprattutto all'adoption di Bitcoin. Non c'erano altcoin o criptovalute nella Bitcoin Conference per ovvi motivi ma l'adoption soprattutto nell'ambito degli States quindi degli Stati Uniti in pratica ragazzi è avviata. Avviata significa che con grande probabilità entro pochissimo tempo anche i negozi più importanti avranno la possibilità di far pagare in Bitcoin tutti i loro clienti attraverso il protocollo Lightning. Questa cosa sembra essere ormai imminente sembra abbastanza evidente che questo processo non possa essere fermato. Ne parleremo meglio nei prossimi video così insomma facciamo una chiacchierata a voce anche delle mie opinioni di quello che potrebbe essere un cambio anche nei prossimi mesi. Secondo me è sempre da dopo l'estate insomma ragazzi in poi così vi dico anche la mia opinione e quello che secondo me potrebbe succedere proprio nell'ambito cripto grazie insomma a quello che abbiamo visto proprio in questa Bitcoin Conference. Ovviamente una super esperienza anche di relationship con gli altri amici e le tantissime persone che c'erano c'erano i giganti proprio dell'ambito Bitcoin. Ne parleremo nei prossimi video ragazzi quindi iscrivetevi così vi farò vedere anche qualche piccolo spezzone in vlog di quello che abbiamo combinato. Adesso andiamo a vedere invece la questione legata al grafico di Bitcoin partendo come sempre facciamo dalla analisi tecnica e analisi ciclica del grafico. Allora la questione che su questo minimo si potesse insomma ecco ripartire un nuovo ciclo è stata subito messa alle strette dal mercato perché il ciclo iniziale che poi qui poteva essere sia un ciclo mensile sia un 20 giorni questo che stiamo vedendo in questo momento. è birato al ribasso come vi dicevo appunto in questa giornata qui questa candela rossa qui ha invertito al ribasso il trend di breve periodo di Bitcoin e si è portato dietro un po' tutto il mercato. Ovviamente è comunque un'inversione di trend di breve periodo che lascia ben sperare se arriva questa chiusura cioè questa zona qui. Allora la prima data di scadenza utile era il 7 di aprile ve ne avevo parlato anche nel precedente video che era appunto questa candela qui rossa ragazzi. Quindi poteva fare una chiusura in questa zona 6 e 7 non ha confermato questa view perché il mercato avendo fatto questa struttura dopodiché ha continuato a scendere indicando in maniera chiara che la struttura ciclica è stata chiusa qui ed è invertita al ribasso fino alla fine di questo ciclo. Quindi in sostanza questo ciclo secondo me ragazzi dovrà durare almeno un 18 giorni due settimane fino a 20 ecco questa è la questione io qui ho indicato la zona intorno al 20 di aprile probabilmente è difficile che nell'arco di questi 5 6 giorni che restano insomma per arrivare in questa zona qui il mercato riesca a disegnare una V in questo modo. Vediamo in ogni caso ma mi sembra un po' prematuro perché a livello temporale ancora manca tanto in quanto questo ciclo è sicuramente un ciclo che fa parte di un movimento precedente che è una M gigante. Vedete come è stato un po' difficile da interpretare se vi ricordate qualcuno di voi probabilmente nei vecchi video vi ho detto che era una fase estremamente complessa da interpretare per i sotto cicli però quelli maggiori in questo caso fatto probabilmente in questo modo si vedono un po' meglio. E questa dovrebbe essere la struttura che Bitcoin sta portando avanti ora se ad aprile chiudiamo in questa fase da un punto di vista operativo in realtà avrei anche dei segnali long ragazzi proprio da questi prezzi su Bitcoin. in particolare intorno anche a 39 e qualcosa quindi 1000 dollari in meno di questo minimo se il mercato inizia a fermare questa sua fase di bassista probabilmente io farò qualche operazione long insomma di breve periodo ovviamente quindi da chiudere comunque entro una settimana quindi 10 giorni quindi parliamo di trading ragazzi non potete seguire queste cose se non avete la formazione adatta come vi dicevo da inizio anno ve lo sto dicendo questo è un anno da trader e Bitcoin ve lo sta dimostrando ogni giorno proprio perché in sostanza è da un anno e mezzo che fermo il mercato ragazzi quindi al di là delle altcoin che hanno caloppato tanto però Bitcoin no ed è in barra di congestione allora questa struttura non può essere anticipata al momento secondo me perché a livello temporale non ci siamo con i tempi è vero che da un punto di vista di prezzo il mercato è vicino a uno dei miei livelli insomma ritenuti importanti però è anche pericoloso andare contro il trend quindi quello che farò io in sostanza è attendere qualche giorno se avviene un'inversione pian piano che mi viene confermata androlog in trading quindi facendo delle operazioni di breve comunque su questo ragazzi iscrivetevi al canale perché ne parliamo e sicuramente non avverrà domani che non c'è video ma poi nel prossimo da questa settimana la programmazione del canale riprende al 100% quindi iscrivetevi così vedremo anche queste cose qui da un punto di vista di analisi tecnica quindi rientro nella barra di congestione che aveva tenuto stretto il mercato per un paio di mesi questo è assolutamente negativo perché indica che questo breakout di questo livello è un fake breakout è vero che è stato confermato e poi il mercato l'ha tenuto tanti giorni ma poi è rientrato quindi in pratica non ha dato la possibilità di fare profitto in maniera consistente quindi magari qualcuno di voi è riuscito a chiudere le posizioni prima ma è troppo poco questo slancio per fare profitto da un breakout di questo tipo quindi in sostanza bisogna attendere la chiusura di questo ciclo le mie posizioni quelle holding sono state ridotte la scorsa settimana da uno dei miei trading system come dicevo lì nella intro del video l'ho pubblicato in academy tra altre cose ragazzi ero anche con tutti gli youtuber proprio in soggiorno stavamo scherzando su questa cosa perché io quando vendo bitcoin soffro ve lo dico proprio in maniera chiara va bene quindi non faccio short selling per una questione personale quindi l'ho detto più volte su bitcoin non vado in short però vendole alcune posizioni insomma le chiudo passando in stable perché seguo delle strategie di trading e quel giorno eravamo insomma tutti insieme insomma hanno visto la mia sofferenza scherzi a parte comunque io credo che questo trend in ogni caso sia da attenzionare perché bisogna che il mercato si mantenga ovviamente al di sopra di questo minimo al di sotto di questo minimo è una cosa estremamente negativa non lo voglio vedere poi se dovesse accadere ne prenderemo atto però è meglio meglio assolutamente evitare andiamo a vedere un po il nasdaq perché è proprio il motivo di questo ulteriore ribasso allora nasdaq rimbalza dalla parte bassa quindi ritocca la resistenza importantissima la nostra media 26 settimane la più importante per nasdaq ragazzi guardate come i mercati hold sono così puliti perché meno diciamo frastagliati e rispettano a volte queste configurazioni in maniera estremamente importante non serve ragazzi a volte tantissimo idee di mille strategie mischiate con 8000 indicatori basta saper leggere anche i grafici la pulizia del grafico è la cosa più importante di tutti quindi seguite sempre un grafico e create un grafico che sia il più pulito possibile senza 2000 indicatori non è giusto fare in quel modo analisi tecnica perché vi confondete poi avviene la paralisi del trader si chiama così l'ho chiamata così nei miei corsi perché non riuscite ad operare in quanto gli indicatori spesso danno segnali contrastanti quindi è giusto utilizzare solo quelli che conoscete molto bene e quelli che vi servono per l'indicazione appunto che state cercando ragazzi quindi non andate a riempirvi il grafico di 2000 e inutili indicatori io sono un trader minimalista da anni ormai avete imparato a conoscermi quindi mi raccomando non serve chissà cosa vedete questa media come ha impattato anche perché c'era questo livello di resistenza molto forte e questo ribasso di nasdaq è giusto così ora la questione è sempre legata all'annuale del nasdaq se nasdaq fa un annuale che è iniziato qui e quindi è già ribassista non c'è scampo ragazzi e si va in questo modo non è positiva una cosa del genere perché vedo bitcoin sinceramente molto debole e soprattutto se non arriviamo ai 54 56 su bitcoin per le cripto e non è buono quindi la metà dell'anno poi a livello di mercato orso sarà estremamente negativa questa è la questione nasdaq ha ancora possibilità però di indicarci un'altra strada cioè il fatto che il ciclo annuale sia iniziato qui perché se questo è giusto allora siamo un po' non vi dico in una botte di ferro ma potremmo avere una cosa di questo tipo che preferirei ve lo dico molto chiaramente quindi sarebbe tutto spostato a fine anno 2022 ma mi garba una cosa del genere però per vedere questa situazione dobbiamo assistere nelle prossime settimane una ripresa di nasdaq 100 oppure una barra di congestione all'interno di questi punti e poi deve assolutamente andarci sopra i 15.400 questo è la situazione quindi dovremmo assistere a una struttura di questo tipo allora in quel caso probabilmente avremmo aria da respirare saremo un po' più tranquilli quindi l'annuale di nasdaq potrebbe essere iniziato qui quindi se è iniziato qui un annuale siccome finisce a marzo prossimo più o meno allora c'è spazio insomma ecco di avere una fase positiva per un po' di insomma di tempo quindi la questione diciamo si metterebbe un po' meglio anche per le cripto vediamo Ethereum che non va per niente bene anzi un po' anche lui con questa struttura frastagliata ad M quindi una struttura a M fatta insomma in questo modo però poi ha la parte qui interna vedete un po' frastagliata che non si capiscono i cicli sottostanti solitamente queste strutture un po' poco chiare ragazzi si vedono quasi sempre nelle fasi di accumulazione o distribuzione macro dei mercati allora il problema sta proprio qui cioè vediamo se questa è una fase di accumulazione quindi poi risale e rompe questo massimo allora sì altrimenti sta distribuendo perché il massimo l'ha già fatto qui e quello è il massimo storico insomma per i prossimi mesi ok allora questo purtroppo non c'è modo di saperlo bisogna attendere il mercato al momento secondo me su questo tipo di mercati così come su Bitcoin è meglio seguire i trend di breve medio periodo piuttosto che i lunghi che insomma il lungo in questo caso non sta a fermo ragazzi non fa nulla il medio è in barra di congestione però è un po' la situazione delicata quindi io sono più positivo nel seguire quelli che sono i trend di breve medio non brevissimo perché ovviamente lì fate solo trading però è meglio stare un po' a guardare queste figurazioni anche Ethereum che sembra più pulito di Bitcoin sempre questa cosa ormai è evidente allora indica una struttura ciclica in chiusura intorno al 20 di aprile questa cosa qui significa che questi dieci giorni sono da attenzionare ragazzi poi vediamo dove siamo e questo è il discorso quindi se in questi dieci giorni il mercato mi crasha qui diventa un disastro bisogna vedere se il mercato invece incomincia a stazionare e perde un po' di tempo e poi prova una fase rialzista non è male questo swing a ribasso perché abbiamo avuto un minimo alto un minimo più cioè questo è un minimo più basso questo è più alto poi un massimo è un massimo più alto se fa un minimo in questa zona e poi riprende il trend lo mantiene ancora positivo anche se è un laterale positivo leggerino però l'importante è che non vada molto giù e in questi giorni quindi è da attenzionare questa settimana che ci porterà al 17-18 di aprile anche la settimana di Pasqua e poi vediamo un po' vi faccio vedere l'ultimo grafico che è quello della Total Market Cap del DeFi e guardiamo anche la dominanza a dire la verità ragazzi ve la faccio vedere perché la dominanza indica anche una ripresa di Bitcoin ma indica anche che Bitcoin non è così predominante però la Total Market Cap della DeFi ha fatto proprio quella che è la consueta struttura di inversione pericolosissimo questo grafico ragazzi perché allora come vi avevo detto nell'ultimo video lunedì chi non l'avesse visto guardate il video lunedì altrimenti non riuscite a seguirmi del lunedì scorso allora questa struttura aveva fatto il rimbalzo del gatto morto ora nella settimana scorsa noi potevamo avere esattamente la conferma di questo rimbalzo del gatto morto con una candelana rossa come è avvenuto oppure una candela che magari fosse anche rozza per un inside della precedente quindi non scendesse tantissimo in realtà no è scesa tantissimo e non solo è scesa tantissimo quella della Total Market Cap della DeFi ma ha breccato il minimo della candela precedente quindi ha fatto proprio un'inversione confermata sul grafico della settimanale perché facendo un break anche della candela precedente si è mangiato anche mezza candela di qui infatti vi faccio vedere per esempio la indicazione delle close eccola qui vedete adesso sta lottando contro l'ultimo supporto perché aveva breccato queste due medie adesso si è portato di nuovo giù e sta lottando contro all'interno di questo supporto è vero che queste due medie in questo momento non hanno un gran valore perché il mercato è in barra di congestione quindi in barra di congestione così le medie mobili ragazzi non servono a niente qualcuno di voi sta ridendo perché ha fatto queste cose nei corsi e servono in pratica il mercato gli va sopra e sotto quindi non vale la pena guardarle però quando tocca il prezzo medio che in questo caso è indicato a 140 billion ovviamente dovrebbe avere o supporto se viene dall'alto o resistenza se viene dal basso in questo caso sembra che addirittura neanche il prezzo medio di questa fase abbia e stia tenendo perché anche oggi apriamo meno 5 è vero che questa settimana deve ancora chiudere però se la total market cap della DeFi dovesse continuare una cosa del genere e magari poi breccare giù questo livello di minimo invertirebbe il trend nel medio periodo portandosi a un trend ribassista delle altcoin non oso immaginare quello che può succedere ragazzi in una cosa del genere perché hanno corso tanto alcune criptovalute nel settore della DeFi ma non abbiamo mai visto un consolidamento veramente veramente rilevante di questo mercato eccomi di nuovo ragazzi scusate sono da mobile e quindi insomma questo consolidamento potrebbe avvenire proprio in questa fase finale di questo annuale del mercato cripto e la cosa non mi piace per niente perché si rischia veramente tanto ragazzi si rischia veramente tanto in un break del genere potremmo assistere veramente a uno crash veramente importante con un ritorno all'anno scorso in pratica a luglio del 2021 delle quotazioni di tutte le criptovalute che compongono questo indice total market cap della DeFi soprattutto quindi le principali Ethereum, Luna, Solana, Avax e eccetera insomma soprattutto io penso che una cosa del genere potrebbe anche portare al fallimento quindi all'exit di alcuni protocolli quindi insomma è meglio evitare questa cosa ok è meglio evitarla lo sto dicendo già da tanto allora questa è una figura pericolosa è stata confermata e bisogna attenzionarla non mi piace per niente però fin tanto che legge questo minimo ancora abbiamo un po' di speranza ma se non dovesse succedere una cosa del genere allora bisogna stare attenti perché ragazzi un break di questo minimo già vi... non vi nascondo che io ho tantissime cripto sono state chiuse soprattutto nell'ambito delle altcoin altcoin ne ho veramente poche ho solo Ethereum in questo momento e quelle che tradano i miei trading system ma non ne ho più da un punto di vista ho delle strategie che ho tirato su di edging che mi mostrerò nei prossimi video perché ho in servo per voi una super sorpresa con una strategia di edge bellissima che ho creato utilizzando delle criptovalute vi farò vedere questa strategia e vi spiegherò anche come si ci può proteggere proprio in queste fasi di trading range nelle lezioni insomma che stiamo facendo del corso trading crypto che dovrebbe arrivare la quinta puntata ormai del corso proprio che parlerà di questa strategia allora vi faccio vedere infine la dominance e chiudiamo il video allora la dominance in questione è lenta ragazzi è inutile perché bitcoin vedete ha iniziato una nuova fase qui probabilmente il nuovo annuale ma non va non va non va su e questo è indicativo del fatto che probabilmente qualcosa sta cambiando all'interno proprio del mercato cripto è vero che bisogna attendere ancora un po' perché la dominance non è da tradare è un grafico che ci dà solo un'indicazione di forza relativa tra bitcoin e l'intero mercato se la dominance sale tantissimo non è buono per il mercato delle cripto quindi non è un dato negativo questo ragazzi però è anche vero che sembra proprio indicarci che bitcoin segue molto di più le altre cripto rispetto al passato quindi un po' sembra aver perso quella che è la sua funzione di faro o di titolo difensivo diciamo così di strumento difensivo rispetto ad altre cripto e questo insomma bisogna prenderne atto se continuerà questa cosa probabilmente sta cambiando un po' tutto quanto all'interno delle cripto è anche vero che bisogna attendere come vi dicevo perché se questo è un ciclo annuale nuovo finisce ad aprile maggio del 2023 ragazzi quindi è solo iniziato possiamo anche pensare che tra un po' assisteremo magari a un break di questo livello di 44 e se dovesse avvenire a quel punto la dominance invertirebbe il trend nel medio periodo in questo caso nel breve medio ecco diciamo così ancora siamo sotto la barra quindi io direi breve se rompe i 44 e medio se rompe i 48 questa zona qui quindi inverte il trend di breve qui e medio se va sopra qui insomma se poi inverte anche quello di medio probabilmente raggiungiamo di nuovo questa zona nel ciclo annuale per una cosa del genere secondo me siamo in un bear market ragazzi oppure bitcoin diventa veramente adoption negli Stati Uniti insomma con cose più importanti e vedremo al momento fate molta attenzione buy the dip no non mi piace questa fase fino a una prima inversione perché non ci siamo quei tempi tutto qui i prezzi ci sono sono scesi abbastanza i tempi no quindi ho un paio di giorni attendo 39 qualcosa insomma quindi più o meno ci siamo ragazzi siamo arrivati a 41 a 40 e qualcosa siamo lì come i prezzi era il mio target di questa fase di bassista è un po' più spinto il target più estremo adesso attendo comunque che il mercato faccia un po' la ripresa i tempi mi dicono che devo stare calmo per 10 giorni e io starò calmo per 10 giorni e niente se il mercato può inverte allora in breakout andrò magari a posizionarmi ma non prima ragazzi non faccio un po' di dip con le situazioni che sono così pericolose va bene allora per oggi è tutto fatemi sapere voi invece come state gestendo questa fase delicatissima sul mercato delle cripto che cosa pensate avete per caso ancora tante criptovalute nel portafoglio soprattutto altcoin molti di voi probabilmente diranno sì e questo secondo me non è un bene imparate a proteggere dai rischi ragazzi ricordatevi perché a guadagnare ci sono mille opportunità al giorno ma il capitale vi serve per poter guadagnare quindi proteggete il capitale che è il vostro strumento per operare va bene ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video spegniamo in pace home ciao